Dunque direi che possiamo iniziare, spero che funziona, ok, benissimo, questa mattina parliamo un pochino di componenti, abbiamo già accennato l'altra volta, ma soprattutto dello stato, lo stato è una di quelle cose assolutamente importanti da imparare a gestire, praticamente scrivere l'applicazione web vuol dire, oltre a mettere un po' di componenti, diciamo, organizzare il layout, che cosa si vede, eccetera, fondamentalmente far funzionare lo stato, perché nello stato caricheremo le informazioni che arrivano dal server, oggi nelle prossime azioni non ancora, ma a un certo punto agganceremo il server, lì verranno caricate le informazioni che dobbiamo visualizzare e tramite lo stato salveremo le informazioni che poi andremo a memorizzare sul server. In sostanza è il meccanismo che ci consente, parlando del vostro laboratorio, di gestire la lista dei film. Noi qui a lezione vedremo un altro esempio che ho già messo online ieri, che è la prosecuzione di quello che abbiamo visto nelle altre lezioni, che è la gestione della lista degli esami. Ok? Ovviamente facciamo esempi semplici, ma questo si applica anche in applicazioni più complicate. Ok, quindi andiamo a... sì, alziamo un pochino, che ho sempre paura che rimbombi troppo, però si sente un po' di più? Ok, se rimbomba troppo con le cuffie non sento, anche se si sente. Ok, bene, quindi andiamo a vedere come si gestisce lo stato in React e noi vedremo questo meccanismo degli Ux, che è il meccanismo che ci consente di inserire questo stato nei componenti. Abbiamo detto che i componenti in React li creiamo tramite delle funzioni semplici, pure, pure vuol dire che prendono dei parametri e hanno un risultato che dipende solamente dai parametri passati, l'approccio funzionale di cui dicevamo. Abbiamo anche detto, ce n'è anche un altro, quello tramite le classi, eccetera, che però è più vecchio, sta praticamente venendo abbandonato nelle nuove versioni in React. Funziona ancora? Se qualcuno di voi ha seguito il corso due anni fa, anche l'anno scorso, diciamo, l'anno scorso stavamo già transendo a questo, può ancora utilizzarlo, però sicuramente il futuro è questo delle funzioni pure. Ok, il fatto che siano funzioni pure, quindi il risultato, il return di questa funzione dipende solo dai parametri passati, cioè dall'unico parametro che sono le props, vuol dire che in teoria non si può avere uno stato e non si possono avere effetti collaterali, perché non c'è accesso a qualcosa di permanente all'interno della funzione. Uno stato è qualcosa di permanente, ok? E quindi dobbiamo capire come React ci consente di fare ciò. Ovviamente c'è un meccanismo che è quello degli hooks, ganci, tradotto in italiano, però noi teniamo pure la terminologia inglese, perché è tanto inutile tradurre queste cose così tecniche, che oramai è abbastanza ben collaudato, a fine 2018, ma praticamente tutti i nuovi meccanismi che usano, i nuovi sviluppatori che usano React cominciano a sviluppare l'applicazione usando gli hooks. Fondamentalmente sono delle funzioni predefinite in React che andremo ad utilizzare per avere delle funzionalità, lasciatemi dire, addizionali rispetto a quello che ci consente le funzioni pure. Ok? Ovviamente in una modalità molto controllata, nel senso che dobbiamo seguire, come abbiamo sempre detto, il pattern di programmazione React, cioè React prevede che queste funzioni si usano in una certa maniera, ciò che ci viene restituito si usa in una certa maniera, non si vada a impostare direttamente certi valori nelle variabili che ci vengono restituite, eccetera, eccetera, tutte cose che adesso vedremo, seguendo questo pattern di programmazione avremo una struttura pulita e in linea con quanto prevede React. Ok? In sostanza andremo a definire un hook per ogni funzionalità di cui abbiamo bisogno. Ci sono gli hook per gestire lo stato, ci saranno gli hook per gestire il cosiddetto life cycle, quando il componente viene creato, viene, diciamo, tolto dalla visualizzazione, quando qualcosa cambia nelle props e così via, che sono i due hooks più importanti, oggi vediamo però lo stato. E poi ci sono altri hooks, diciamo, di utilità che useremo e vedremo strada facendo, che però, diciamo, sono un po' meno importanti dal punto di vista dell'applicazione, dello scrivere, diciamo, il codice dell'applicazione e il funzionamento vero dell'applicazione. Quindi i due principali sono lo use state, che abbiamo visto, che ho appena nominato per gestire lo stato, use effect, che è quello life cycle e anche qui spenderemo sicuramente un'intera lezione su questo, perché, diciamo, anche questo è fondamentale. Poi ce n'è uno abbastanza comodo che è il context, su cui spenderemo un po' di tempo, ma senza esagerare, nel senso che ci consentirà di trasportare i valori delle props in maniera un po' più comoda dal punto di vista della programmazione tra vari componenti della nostra applicazione. E poi ce ne sono tutta una serie, non voglio dire minori, ma, diciamo, dal nostro punto di vista di minore importanza, perché sono utili in casi un po' più particolari e quando ci sarà bisogno magari faremo un cenno, ma fondamentalmente non saranno da utilizzare per quanto riguarda le nostre applicazioni. chi è curioso, appunto, prende il nome e va a dare un'occhiata sulla guida di React oppure chiede durante il laboratorio e così via, volentieri dico qualcosa, ma noi concentriamoci sui due fondamentali che sono lo use state e lo use effect, senza i quali non riuscite a scrivere la vostra applicazione. Ok, questa è una vista ad alto livello di come funziona l'applicazione. Abbiamo i componenti React, abbiamo già visto l'altra volta, abbiamo scritto function app e abbiamo fatto componente app. In realtà ci veniva fuori dal template il primo componente a cui tutto viene agganciato. E poi abbiamo messo function my button nel mio bottone e dentro ho scritto il mio codice. Oggi facciamo qualcosa un po' più complicato, facciamo la nostra tabella, degli esami e così via e andiamo avanti da lì. I componenti React prendono le profs come parametri, eventualmente prenderanno il contesto, vedremo più avanti, e poi gestiscono lo stato in maniera, come vedete, bidirezionale, nel senso che lo stato è qualcosa che si può leggere, ma si può anche scrivere, si può anche impostare. Quindi possiamo salvare delle informazioni in questo stato. Mentre le profs che abbiamo visto fino all'altra volta sono di sola lettura. Noi le riceviamo e non le possiamo modificare. E' ovvio che in javascript potete scrivere quello che volete, ma se modificate una profs, distruggete il valore della prof e non succede niente perché tanto questa prof non viene utilizzata da React per passarla da nessun'altra parte. Quindi le profs sono dei valori di sola lettura. E poi il componente React ritorna un element tree che sono tutti i componenti agganciato a quello tramite i quali costruiamo la nostra interfaccia. Questo l'abbiamo detto, tranne che lo stato è privato al componente. Quindi lo stato è qualcosa che con look vedremo tra poco, agganciamo al singolo componente e solo quel componente può andare a modificarlo. Solo da dentro il componente. Ovviamente ci sarà poi un trucchetto che ci consente di andare a modificarlo anche dai componenti figli sulla base di quello che avviene nell'applicazione, ma diciamo in linea teorica la funzione che modifica lo stato di quel componente è accessibile solo da quel componente. Perché? Perché mi viene restituita dentro la funzione che definisce il componente stesso. Il context lo vedremo poi. Ok, e questo fondamentalmente l'abbiamo già detto un po' un ripasso di quello che abbiamo visto l'altra volta. E in JSX, ecco mi raccomando il JSX è sostanzialmente codice javascript. Ho ricevuto una domanda su Slack, era privata poi non l'ho postata a tutti perché era un po' più tecnica, era molto lunga, eccetera. Il codice JSX non è HTML. C'è uno che diciamo ha cercato di trovare un parser per farlo diventare non so cosa. Non sono stringhe, non le mettiamo con le virgolette. È codice HTML che viene tradotto da Babel, internamente, dal sistema di React, col create React app che noi facciamo, in codice JavaScript. Quindi React, create node, create element, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nel momento in cui dobbiamo far funzionare il tutto non dobbiamo pensare in termini di stringhe, dobbiamo pensare in termini di codice HTML che poi verrà tradotto secondo le regole del JSX che abbiamo visto l'altra volta. Queste regole ci ricordano che tutto ciò che noi mettiamo come attributo diventa una props, una proprietà ricevuta dal componente figlio, quindi quello che scriviamo qui. Ovviamente se qui scriviamo un teg HTML, gli unici attributi che funzioneranno sono quelli HTML. Se però qui noi scriviamo un nostro componente, un componente preso da qualcun altro, React, Bootstrap e così via, gli attributi che funzionano, quindi le props che funzionano, sono quelle che vengono poi agganciate nel componente. Ho scritto da noi, ho scritto da React, Bootstrap. Lo stato è sostanzialmente un oggetto che contiene dei dati che sono privati del componente, almeno diciamo come in linea di principio, quindi come approccio di React, che possono essere modificati solamente dal componente stesso. Come facciamo a crearlo? c'è questo useState, questo wook useState che in realtà è una funzione, tutto in Java scritto è una funzione, è una useState, una funzione messa a disposizione da React che importiamo, come importiamo gli altri componenti e così via, cioè ciò di cui abbiamo bisogno da React, in realtà i componenti poi li importiamo da React Bootstrap se ne abbiamo bisogno, però diciamo questo useState è una funzione di React che ci crea una coppia di variabili in cui in una abbiamo riferimento al contenuto dello stato, quindi un oggetto che contiene lo stato. In realtà può essere qualsiasi cosa, io dico un oggetto per comodità, ma può essere un valore qualsiasi utilizzabile in JavaScript e come seconda cosa ci crea una funzione per andare a modificare questo stato, quindi per rimpiazzarne il valore. Noi dovremo sempre usare questa funzione per andare a modificare il valore dello stato. Quindi in sostanza volete creare uno stato, usiamo useState, quindi importiamo useState da React, come abbiamo fatto per i nostri componenti, come facciamo per React Bootstrap, per l'icone, per tutto il resto, usState lo importiamo e la utilizziamo. Il valore di ritorno della useState non è uno, ma sono due, che noi di solito utilizziamo con questa sintassi molto comoda, del destructuring di un array, cioè fondamentalmente ci ritorna due valori in un array e noi li mettiamo direttamente in due variabili, che chiamiamo come desideriamo noi, quindi hidden, qui l'abbiamo scelto noi, e il secondo in genere lo chiamiamo set, il nome della prima variabile, per nostra comodità, ma vi invito a seguire assolutamente questa convenzione, perché ci ricorda che è la funzione che andrà utilizzata per modificare il valore di quella variabile. Quindi, questo è il modo di definire uno stato, cosa prende come parametro, forse dopo c'è scritto, vediamo, comunque ve l'anticcio, cosa prende come parametro il valore iniziale dello stato, cioè in hidden all'inizio ci sarà scritto quello che mettiamo qui come parametro, true, ok? Quindi questo è un esempio molto molto semplice, diciamo simile al bottone italiano-inglese che abbiamo visto l'altra volta, qui cosa succede? Qui succede che il contenuto del componente short text sarà un pezzo della props che si chiama text, quindi passata al componente, oppure tutto, quindi il substring fino a un certo lunghezza massimo, oppure tutto a seconda del valore di hidden, che inizialmente sarà true, quindi sarà solo un pezzo, e poi a seconda di cosa facciamo, come interagiamo con l'interfaccia del componente, questo valore cambierà e di conseguenza cambierà che cosa viene ritornato come JSX, quindi come element tree dal nostro componente, ok? Quindi questo è quello che viene visualizzato, quindi questo ciò che viene visualizzato e questo è l'handler che viene inserito di fianco a ciò che viene visualizzato, quindi un onclick che nel caso che hidden sia true, metterà una callback con set hidden false, non scrive aperta tonda freccia hidden uguale false, questo è uno sbaglio, bisogna sempre andare a modificare lo stato in React con la funzione che ci ha messo a disposizione, diciamocelo tra noi, perché? Perché React ha necessità di sapere che noi abbiamo modificato uno stato, perché quando noi modifichiamo uno stato, o modifichiamo una prop, però la prop nel componente superiore, React fa il calcolo di che cosa deve essere modificato nella visualizzazione e poi va ad aggiornare la visualizzazione, quindi se noi andassimo a modificare direttamente il valore dello stato, React non saprebbe che questo valore è cambiato, ok? Sarebbe troppo costoso dal suo punto di vista andare a verificare che il valore è cambiato e dovrebbe periodicamente andare a verificare, non lo so cosa dovrebbe fare, non è il meccanismo previsto, noi usiamo una funzione che ci viene ritornata che la prima cosa che fa è dire a React attenzione e guarda che questo stato potenzialmente cambia, perché dico potenzialmente perché in realtà noi possiamo metterci cosa vogliamo, se lo stato poi effettivamente è cambiato, React va a verificare su che cosa ha impatto questo cambiamento di stato, altrimenti lascerà tutto com'è, perché potrebbe anche essere che lo stato per qualche motivo ne abbiamo chiamato la funzione ma non abbiamo cambiato il valore. Ok, quindi, come si crea una variabile di stato? C'è uno stato dentro un componente, abbiamo appunto questa useState, che crea una nuova variabile di stato, ne crea una sola, però in JavaScript noi possiamo usarla per qualsiasi cosa, quindi noi possiamo metterci dentro una stringa, un valore booleano come appena fatto, un numero o un riferimento, un array, un oggetto, quello che vogliamo. Ok? Poi vedremo tra l'altro che possiamo chiamare più volte la useState, quindi questa ha anche un'altra implicazione. Cosa ritorna? Il nome della variabile che decidiamo noi è una callback che dobbiamo utilizzare per impostare il valore dello stato. Ok? Quello che mettiamo come parametro della useState, come vi ho detto prima, è il valore iniziale, che viene usato solo all'inizio. Quando questa variabile viene creata, la hidden, non ci viene è lasciato undefined, come se avessimo creato una variabile con, non so, let hidden, punto virgola in JavaScript. Sarebbe scomodo, e lì c'è il valore iniziale. Ok? Ecco, la cosa interessante dell'usare la useState è che pur essendo noi in una funzione pura, quindi che riceve solo le props, quando ritorniamo a chiamare di nuovo questa funzione, la useState si ricorderà, se è già stata chiamata o no, se non è ancora stata chiamata ci mette il valore iniziale, quindi crea tutto, se è già stata chiamata ci ripristina il valore dello stato, quindi ci ritroviamo in questo caso in hidden il valore precedente. Questa è un po', chiamiamola così, la magia del hook per creare lo stato in React. E ci rimette apposta la callback in maniera che possiamo utilizzarla esattamente come prima. Ok? E poi noi abbiamo due variabili che girano per il nostro componente, possiamo utilizzarle come desideriamo, tranne per il fatto che non possiamo assegnare un valore direttamente a hidden, perché altrimenti React non capisce che lo abbiamo modificato. Siamo abituati. Ok, quindi continua a funzionare tutto. Altro esempio, un po' più semplice, forse così, diciamoci un po' meno di codice. Quindi noi abbiamo uno stato e lo chiamiamo come vogliamo, a seconda della nostra applicazione, lo stato avrà il valore, cioè avrà il senso che dipende dalla nostra applicazione. Abbiamo il bottone italiano-inglese, come l'altra volta, e chiameremo questo stato English, come è fatto qui, oppure is English, come vi pare. L'importante è che siamo un po' coerenti nella nomenclatura e poi lo usiamo come desideriamo. Quindi è una variabile, possiamo fare dei test, degli if, tutto quello che vogliamo in JavaScript. Ok? Ok. Quindi tipicamente poi lo stato viene usato, perché se non lo usiamo non serve a niente. O viene usato direttamente nel componente, oppure può anche essere passato come proprietà, quindi come attributo a componenti figli. Quindi se noi avessimo un button e volessimo passare a English come proprietà, si può tranquillamente fare. L'unica cosa è che poi il componente figlio non può andare a modificare il valore di English, perché è una profs per il componente figlio e non si può più modificare. Quindi se dovesse farlo come si fa, dovremmo sostanzialmente passare in qualche modo o la callback o una funzione che usa la callback. Questo si potrà fare. Ok, questo l'ho detto chiaramente, ma qui lo trovate diciamo scritto chiaramente, anzi ultra chiaramente, mai, mai, mai modificare la variabile di stato direttamente. Quindi c'è la variabile 7 qualcosa che ha una callback, che è quello che dobbiamo utilizzare per modificare lo stato, vi manca ancora un pezzettino, ossia che applica la modifica in maniera asincrona. Come tutto in JavaScript è asincrona. Perché? Perché potenzialmente per efficienza può essere utile mettere insieme più modifiche e quindi andare a fare una refresh della visualizzazione diciamo in un colpo solo con più modifiche e così via. A noi basta sapere che viene applicata in maniera sincrona, ossia prima o poi verrà applicata, però in quel momento, dopo che abbiamo chiamato come prima, che so, set English, lì il valore di English non viene subito modificato. Quindi non è come se fosse sincrona, che quindi al passo successivo abbiamo il valore di English impostato. Dopo un po' verrà applicato questo valore, verrà fatto rendere e così via e tutto, diciamo, si modificherà di conseguenza. Ok. Ancora una cosa ci manca da sapere, poi facciamo una prova vera, quindi andiamo a prendere l'esempio che ho messo online e andiamo a implementare una prima semplice funzionalità. Noi possiamo mettere direttamente come nuovo valore, un valore, quindi come false, true, un numero, una stringa, un valore immediato. Ok. Dobbiamo fare un po' attenzione se questo valore è un valore, diciamo, indipendente da cosa sta succedendo, come prima, false, true. Ok. Non c'è problema, possiamo utilizzarlo. Se è un valore che dipende dallo stato precedente, siccome la modifica avviene in maniera asincrona, la cosa migliore è mettere un valore che verrà calcolato da una callback che riceve come parametro lo stato corrente. Questo perché? Perché siccome la modifica avviene in modalità asincrona, se io vado a prendere il valore attuale, quindi il valore della variabile, quindi scrivo old step più 1 e lo metto come valore calcolato subito in set steps, potrebbe succedere che ad un certo punto la modifica al set steps non viene effettuata subito, io mi ritrovo a rieseguire la funzione del componente quando l'old steps non è ancora stato modificato. con la set steps, perché la modifica è asincrona. Se io però, anziché passare il valore già calcolato, passo una funzione che lo calcolerà, React è sufficientemente intelligente da accorgersi che io ho passato una funzione e non un valore. Avendo passato una funzione, nel momento in cui vuole fare la modifica dello stato, chiamerà questa funzione, come parametro passerà il valore dello stato corrente, prenderà il valore di ritorno e lo userà come il nuovo valore dello stato. In questa maniera non mi perdo alcuna modifica, perché ogni volta che la set steps viene dato seguito alla set steps, viene chiamata una callback, quindi per definizione prende lo stato vecchio e crea il nuovo senza perdersi nulla, perché le set steps non vanno perse. Ciò che andrebbe perso è il calcolo corretto del valore, se io prendo il valore corrente. Proviamo poi a ragionarci sul codice, forse così non è proprio immediato, perché è un discorso un po' teorico. Comunque, la regola d'oro è quando il nuovo stato dipende dal vecchio stato, passare sempre una callback e non passare mai il valore calcolato direttamente, perché rischiamo di perderci qualcosa per la strada. E questo vale per valori immediati, per array, per oggetti e così via. Ma lo vedremo e lo sottolineiamo quando negli esempi abbiamo da creare il nuovo stato. Vedrete che lo creiamo in una certa maniera e non un altro. ok, quindi ecco questo è proprio quello che vi dicevo, cioè noi ipotizziamo di avere un contatore, che è la cosa più immediata. Ogni volta che clicchiamo un bottone aumentiamo di 1. Se la modifica del valore dello stato è asincrona, se il più 1 del passo precedente non è ancora stato effettuato, il valore del contatore ha ancora il valore precedente, e quindi mi perdo un più 1. Se invece c'è sempre una funzione che calcola il nuovo valore, prende sempre il vecchio valore, ci fa sempre più 1 e quindi non c'è il rischio di prendere un valore non ancora modificato. Perché quando si dà seguito alla set state, in questo caso la set counter, c'è sempre nel parametro della callback che ho passato il valore corretto dello stato. Ok? Quindi non mi sono mai perso un più 1 per la strada. Ok? Quindi, realt mi garantisce di darmi sempre l'ultima versione, l'ultimo valore calcolato dello stato. Anche in questo caso è count. Vabbè, counter, forse avrei dovuto chiamarlo, visto che ho detto di mettere set nome della variabile. Beh sì, scusate, l'ho messo sopra, ecco, sotto l'ho chiamato cnt perché in realtà questo è il parametro della callback, quindi lo potevo chiamare come mi pare, c, z, k, quello che volete, è un parametro della callback che mi dà un valore di ritorno. Ok? Mentre counter invece è proprio la variabile che ho ricevuto dalla use state. Ok, quando succedono modifiche dello stato? Quando cambia qualcosa. Siamo nel contesto di una pagina web, cosa capita? Succede che l'utente interagisce, quindi c'è un evento asincrono, il click, o più in generale diciamo un event handler del DOM, clic, movimento del mouse, pressione sul tasto della tastiera e così via, oppure altri eventi asincroni, per esempio il caricamento di dati dal server e così via. Farò una fetch, vado a prendere dei dati dal server, mi viene risolta la promise e nella promise farò una set state per ricordare i dati caricati dal server. La set qualcosa, quindi la callback ritornata alla use state, la posso utilizzare dovunque all'interno del mio codice del componente. Ok? Quindi anche un event handler, quindi mi scrivo una funzione, sapete che possiamo annidare le funzioni in javascript, la prima cosa che mi hanno detto all'inizio corso, quindi io mi faccio il mio handler che richiama la set, la set English a callback e fa quello che deve. Qui fa un'operazione con una callback, cioè da una callback a React quando c'è da fare il cambio di stato, prende il vecchio stato e qui è Boolean e lo inverte, ritorna il punto schema TVE, cioè il valore Boolean invertito. Ok, questa è la maniera corretta di scrivere questo codice. Ecco, molto spesso viene tutto implementato con le Arrow Function, lo sapete, javascript è fatta di tante Arrow Function, anche a noi piacciono abbastanza perché rendono il codice compatto e non troppo dispersivo, cercate solo di non farvi confondere, se avete dei dubbi chiedete, ma diciamo piano piano sono una cosa relativamente intuitiva, quindi alla onclick passiamo una funzione, quindi prima passavamo Tog Language che è definita come funzione, quindi ha senso passare la variabile function che è un riferimento a una funzione, se invece dobbiamo definirla in line, dobbiamo scrivere una funzione, quindi non possiamo scrivere set English, eccetera, perché set English è una chiamata di funzione, se dobbiamo passare una funzione, dobbiamo scrivere una funzione e per scrivere in line, cosa più semplice è avere l'Arrow Function, quindi aperta e chiusa tonda, freccia, codice, ok? Come qua, ok, il valore di default l'abbiamo detto, vi dico solo che può essere anche calcolato da una funzione, ma in realtà a noi questa cosa serve ben poco, perché? Perché viene calcolato solo all'inizio e la prima volta, per cui diciamo non c'è questa utilità, a meno che per qualche motivo ci venga comodo calcolarlo con una funzione, perché non so, è un calcolo complicato o qualcosa di simile, ok? Ecco, invece quello da sottolineare è evitare di calcolarlo dalle props, perché? Perché questo ci potrebbe trarre in inganno, ci potrebbe far pensare che nel momento in cui siamo nel componente c'è lo stato e viene creato lo stato, ogni volta che cambia la props cambia lo stato e non non è così, ok? È solo quando il componente viene creato per la prima volta, che di solito è, diciamo, all'inizio, nel momento in cui viene visualizzato, finché non sparisce dalla visualizzazione e quindi viene distrutto da React, il componente rimane lì e quindi questa inizializzazione non avviene più, ok? Avremo un meccanismo per allineare lo stato con le props, ma ci serve l'altro hook di cui vi dicevo prima, la use effect, che tra l'altro piace molto, diciamo, abbiamo visto l'anno scorso, lo usavano tutti anche per questo meccanismo che non è il massimo, però, diciamo, sicuramente non è da, come dire, da pensare che la prop sia lo strumento adeguato per inizializzare lo stato. Magari in qualche specifico caso va bene, perché dobbiamo andare a un valore iniziale e poi non ci interessa più, però, attenzione, non è raccomandato perché ci potrà re-inganno in questo senso, cioè cambia la prop, cambia lo stato. No, non è quello che capita. Quindi, diciamo, va bene, abbiamo un valore iniziale, per esempio il counter, facciamo l'esempio del counter, e poi abbiamo quasi finito. e andiamo a fare degli esempi veri, cioè, col codice. Abbiamo un counter, quindi un normalissimo count due punti valore. Un componente che ci mostra una stringa, un numero, con un bottoncino che, se premiamo, ci fa andare avanti. Vabbè, c'è anche il bottoncino indietro, ma diciamo, noi ce ne basta uno, più. Cosa fa il componente? Deve ricordarsi il valore di count, quindi ha uno stato, perché altrimenti tutte le volte che lo renderizziamo dovrebbe prendere il valore dalle props, ma allora, cioè, se prende il valore dalle props è solo un visualizzatore. se invece è in grado di ricordarsi qualcosa, va bene, però doveva avere un suo stato, cioè doveva avere un posto dove ricordarsi questo valore. Questo posto è creato tramite la use state, la variabile l'abbiamo chiamata count, abbiamo una funzione che possiamo chiamare per andare a modificarne il valore, set count. Diamo un valore iniziale, ecco, qui ho fatto quello che ho raccomandato di non fare, no? Props initial count, va bene, c'è una proprietà, ebbene, io magari per qualche motivo voglio visualizzare un certo valore iniziale come contatore. Beh, qui ci può stare, diciamo, di andare a prendere questo valore come props, ok? Occhio però che non è che tutte le volte che il componente viene ricreato, io magari lo ricreo cambiando il, scusate, non lo ricreo, cambio il valore della props nel componente padre, si aggiorna al contatore. Il contatore non si aggiorna più. Il contatore si aggiorna solo quando andrò a chiamare set count, praticamente quando andrò a usare questi tre bottoni, ok? Quindi, vabbè, uno aggiunge, l'altro toglie, e l'altro setta, setta il valore che decido, ok? Che potrebbe anche essere diverso dall'initial count. Notate che qui passo una callback, come ho raccomandato di fare. Se non passassi una callback, cosa può succedere? Può succedere che premendo molto rapidamente, magari React, perché è impegnato a fare del resto, non lo so, in un'applicazione più complicata, si perda un passaggio, perché prende il valore prove count, fa subito il calcolo e poi non ha ancora aggiornato il prove count e arriva al secondo click e esegue l'handler. Quindi si è perso l'incremento di uno del count, ok? Se invece lo faccio con la callback, gli eventi non se li perde, perché gli eventi vanno accodati, vanno a finire nella callback queue di JavaScript, quella del browser, ok? Quindi quegli eventi non vanno persi, quindi l'asset count verrà chiamata. Il problema è che valore usa l'asset count. Se io ho la callback, eseguo la callback, quindi non mi interessa più se viene eseguito prima o dopo, perché quel tot di esecuzione ne avrà sempre, perché gli handler vengono accodati e non vanno persi, ok? Quando posso fare a meno della callback è quando ho un valore che comunque so essere quello, indipendentemente da cosa ho fatto prima. Voglio fare il reset, voglio ripartire un certo valore, va bene, lì non c'è bisogno della callback, perché tanto il valore è quello, indipendentemente da cosa ho fatto prima. Ok. Ancora due cose. La useState si può usare più di una volta nello stesso componente. Questa è una comodità notevole, probabilmente il motivo per cui, diciamo, si è andati verso l'usare gli hooks rispetto allo stato dei componenti classe, perché lì c'era un unico stato e ogni tanto diventava macchinoso gestirlo. Qui posso chiamare più volte la useState. Mi raccomando, fatelo sempre all'inizio della funzione, per una questione di come è implementato internamente React, viene un po' lungo da spiegare, ma magari più avanti quando abbiamo la useEffect, anche mi sembra che ci sia delle slide che lo spiegano. Per ora, diciamo, lo facciamo all'inizio e possiamo creare più stati, ok? Tutti accessibili sempre e solo da quel componente dove li abbiamo creati. C'è la variabile, c'è la callback che può modificare lo stato. Quando ha senso creare più stati? Ha senso quando abbiamo degli stati che sono, diciamo, indipendenti tra loro, ok? Quindi, nel momento in cui vado a modificare il valore di uno stato, non ho bisogno di modificare gli altri, ok? Vedremo poi che, diciamo, se avessimo messo tutto insieme, dobbiamo mettere tutto in un oggetto con delle proprietà e questo ci comporta una serie di difficoltà, perché lo stato, diciamo, il cambiamento di stato viene rilevato da React come cambiamento dei riferimenti, quando abbiamo degli oggetti complessi, quindi degli array o degli oggetti JavaScript. E quindi non basta che in un oggetto io cambio una proprietà per far capire a React che è cambiato lo stato. Devo ricreare l'oggetto, copiarmi le proprietà, ok? Quindi, però con questo sistema, se io riesco ad avere stati relativamente semplici, è automatico far capire che è cambiato, perché se il valore è semplice, come una stringa, un booleano, un numero, no? Automaticamente si capisce che è cambiato. La complicazione arriverà quando avremo degli array, cosa abbastanza comune, no? Come succede nei nostri esempi del laboratorio. Abbiamo la lista dei film, i laboratori, abbiamo qui la lista degli esami, quindi avremo prima o poi da gestire qualcosa di più complicato come gli array. Faremo attenzione e vediamo come farlo. Però nel momento in cui abbiamo stati semplici e indipendenti, il contatore, un hidden per mostrare o non mostrare un pezzo del componente e altre cose di questo tipo, possiamo tranquillamente crearli come più stati e manipolarli in maniera indipendente. Questo semplifica il codice a noi e semplifica anche la gestione a React. Quindi è assolutamente consigliato fare in questa maniera. Quando è che non è consigliato fare così è quando i dati sono fortemente collegati. Cioè abbiamo un array di elementi, per esempio la lista degli esami, la lista dei film e non è che posso mettere uno stato per il primo film, uno stato per il secondo film e così via. Anche perché non posso mettere queste funzioni poi in un for, perché il meccanismo non funziona più. Ok? E poi sono comunque elementi collegati. Quindi c'è una lista di film, un array di film, un array di voti e così via. Quindi ha senso che stiano insieme, ha senso far capire che è cambiato qualcosa in quella lista. Ok. Ultimo esempio e poi proviamo appunto nella pratica. Abbiamo detto che lo stato è modificabile solamente dall'interno del componente. Però ogni tanto ci viene comodo modificarlo da altre parti. Ok? Per esempio, pensate a questo caso. Questo è proprio un classico caso. Avete un tot di bottoni, due, tre, quattro bottoni, di cui solo uno alla volta può essere selezionato. Allora, va bene. In ogni bottone metto lo stato selezionato, sennò va bene. Ma come faccio a garantire che ce ne sia solo uno selezionato? Dovrei avere uno stato che mi dice qual è il selezionato. Ma dove lo metto questo stato? Posso metterlo nel bottone singolo? Non mi viene, non riesco a garantire. Cioè dovrei avere quattro stati sincronizzati tra loro, no? In cui in ognuno c'è sempre scritto la stessa cosa e dice qual è dei quattro il bottone selezionato. Cosa che, come dire, mi distruggerebbe un po' l'utilità dello stato. Allora, dove metto lo stato? Di che cos'è selezionato? Lo stato lo metto nel componente che racchiude tutti quanti. Quindi avrò un contenitore, quindi un mio componente che mi definisco, come contenitore del gruppo di bottoni, in cui ci sarà uno stato che mi dirà qual è il bottone selezionato. Col formato che desidero io, col nome, con un identificativo, con quello che mi pare, non importa, ma c'è una variabile che mi dice qual è il bottone selezionato. Sulla base di questo andrà a creare i bottoni con l'effetto selezionato oppure no. Qual è l'ultimo pezzo che mi rimane da gestire? Come fanno i singoli bottoni a prendere l'evento e andare a modificare lo stato che non è dentro il loro componente, ma nel componente contenitore? Come faccio? Ve l'ho anticipato prima. Passo come proprietà una funzione, quindi una callback, che sarà in grado di chiamare la set, diciamo selected o set quello che volete, del contenitore che è l'unica che è in grado di andare a modificare quello stato. Quindi vediamo il disegno. Quindi vabbè, c'è la mia app, va bene. Il button group è il contenitore. Questo crea i vari bottoni. In questo contenitore ho lo stato. Qui l'ho chiamato selected. In cui ci metto dentro che cosa? Dunque, devo vedere come è stato implementato. Devo andare a qui. Cosa no? Vabbè, qui l'hanno chiamato chosen. Vabbè. Chosen ho messo l'indice. Quindi uso l'indice. Ho deciso di tenere un intero che è l'indice del bottone selezionato. Il punto è come faccio a fare in modo che il click su un bottone di questi componenti figli vada a modificare lo stato. Passo come props una funzione che è in grado di fare questa modifica. L'ho scritta qui. Choose button. Index freccia set selected index. Ok? Quindi questa funzione prenderà un valore. Ok? E mi andrà a fare set selected di quel valore. Set selected è quello che mi arriva dallo use state che ho fatto nel button group. Ok? Quindi nel momento in cui mi arriva il click sul bottone ho un arrow function che va a fare props choose. Cioè va a chiamare la choose button del componente padre e gli passa props index che è l'indice sempre passato dal componente padre che sarà diverso per ogni bottone. Uno, due, tre, eccetera. Che dice qual è l'indice di quel bottone e quindi andrà a mettere nello stato del componente padre il button group l'indice corretto. Ok? Ok. E poi vabbè avrò un po' di codice. Selected è false. In realtà poi selected sarà un qualche cosa che metterà true sulla base del contenuto di selected. Quindi quello che vediamo prima. Selected. E metterà true a uno di questi e forza agli altri e io scriverò il codice del button in maniera che mi venga fuori l'attributo selected e quindi mi venga colorato primary piuttosto che secondary se uso bootstrap e vedo che effettivamente c'è la selezione. Ok? Spero di essere stato abbastanza chiaro queste cose bisogna un po' vederle in pratica e poi vi rendete conto che è più difficile da spiegare che da provare. Ok, ultimo. Questo esempio ci fa capire una cosa che non sempre lo stato può stare dove intuitivamente penseremmo di metterlo. C'è un bottone selezionato? Beh, avrà uno stato selezionato. Diciamo sì, se ho solo un bottone quello ha senso. Se ho però più bottoni collegati lo stato ha senso metterlo da un'altra parte perché se questi bottoni sono collegati e sono controllati da quello stato, questo stato deve essere in qualche maniera passato a questi elementi, ai bottoni e deve essere modificato da questi bottoni. Siccome l'unica maniera di passare informazione ai componenti è quella di passarlo come props, sia che sia valori, quindi lo stato, sia che siano delle funzioni per modificare lo stato, l'unica maniera che ho di fare in modo che tutti vedano questo stato è di portarlo più in su, fare il cosiddetto state lifting, portarlo ai componenti padre, ai componenti più in su nella gerarchia, nell'albero dei componenti, perché l'unica maniera che ho poi di far scendere questa informazione è tramite le props. Se questo comporta di portare lo stato fin su al componente radice, si farà. Nell'applicazione più complicata, in quasi tutte le applicazioni all'esame, abbiamo degli stati che vanno a finire in app. Perché? Perché finisce che per qualche motivo ne avete necessità di visualizzarli da una parte e dall'altra. Volete, che so, vedere se l'utente è autenticato e vi serve un po' tutta l'applicazione. volete vedere, non so, volete avere il contenuto appunto caricato dal server, vi serve un po' tutta l'applicazione e finirà in app, va bene. La gestione dello stato è un qualcosa di complicato, infatti esistono delle librerie, dei framework anche solo per gestire lo stato, diciamo, indipendentemente da React o dagli altri sistemi, dagli altri framework che si usano per le applicazioni web. Perché quando le applicazioni si complicano, chiaramente si complica anche lo stato, perché lo stato sono le informazioni che l'applicazione ha caricato e che usa per lavorare con l'utente. Quindi ci sono gli staterelli semplici, locali, come vedremo dopo, per esempio dei form, sto scrivendo in un form e vabbè, c'è quello che ho scritto, però ha senso che sia lì localizzato nel componente che gestisce l'interazione con l'utente. Ma tutto il resto dello stato nell'applicazione ha senso che sia accessibile più o meno a tutta l'applicazione e siccome lo stato può essere complicato, può aver senso andare verso una libreria che ci gestisca il cambiamento dello stato. È un argomento troppo complicato per questo corso, cioè non complicato, troppo avanzato perché non ci stiamo più nei famosi sei crediti, noi ce lo gestiremo a mano con l'accortezza che il motivo è che l'applicazione che facciamo noi non è troppo complicata. Nel momento in cui avesse un'applicazione molto complicata può valer la pena andare a dare un'occhiata a questi framework. Noi praticamente l'unica cosa che faremo è portare lo stato su nell'albero dei componenti fino a quando è in un punto che ci va bene per la nostra applicazione. Forse anche che lo dobbiamo portare fino in app, come per altro punto spesso succederà. Magari non per tutto lo stato, ma per una parte diciamo importante del nostro stato. Ok, allora andiamo a fare un po' di esempi pratici. Quindi, ah no, non ho aperto. Visa Studio Code, ho la rete, sì, ho la rete. Ieri ho messo online il Wix07 che al momento contiene una normale applicazione React senza il NodeModules. Il NodeModules come sempre non è messo online, ho messo 300 MB di file inutili, nel senso che tanto io vi metto online i miei, poi voi non avete Linux, avete il Mac, avete l'M1, la compagnia e non vi servono a niente. E quindi non mettete online NodeModules. Quando avete necessità vi scaricate i file che effettivamente dovete scambiare, che sono praticamente tutto tranne NodeModules. Andate nella vostra cartella e fate npm install. Adesso qui è già tutto pronto, quindi penso ci metterà poco. Però sulla base del package JSON vi install e vi ricrea il NodeModules è fatto apposta per il vostro sistema. Dovete avere a disposizione questi 300 MB di spazio perché il Create React App ci crea tutte queste dipendenze, però diciamo avete tutto pronto per essere eseguito. E quindi se fate poi il npm start potrete eseguire l'applicazione React. Se tutto funziona, non ci sono problemi. Adesso vediamo. Ok, l'ho provato ieri, l'ho messo a posto ieri, diciamo. Funziona tutto. Apriamo sempre la console, ne approfitto per farvi vedere una cosa su cui purtroppo sono stato poco chiaro durante il laboratorio. Alcuni di voi hanno visto questo errore, che in realtà è un warning. non è un problema nostro in questo momento, il problema deriva dal fatto che praticamente gli sviluppatori di Create React App non hanno ancora aggiustato il template dell'applicazione per riflettere i cambiamenti fatti in React 18. Come dicevamo tra i docenti, diciamo, è il bello e il brutto dell'open source, nel senso che, o ci facciamo il nostro cater app, ma poi quando lo aggiornano dobbiamo aggiornarcelo, oppure attendiamo che facciano la release, quindi il nuovo pacchettino, che vada a creare il template corretto, oppure andiamo a modificarci i file. Nel senso che se, diciamo, per fine corso non avranno fatte, non abbiamo la pazienza da aspettare, ci serve qualcosa di React 18, bisognerà andare in index.js e andare a cambiare queste poche righe. Quindi andare a fare il get root eccetera, cioè, insomma, cos'è che bisognava fare, come abbiamo visto sulle slide, per React 18. Ok? Quella cosa che abbiamo detto, per ora di non toccare, ma diciamo che finché non ci serve, lasciamo così, così, diciamo, non abbiamo questo fastidio. Ok. Bene. Andiamo a vedere che cosa vi ho messo a disposizione. Bene. Quindi, allora, io vi ho messo a disposizione l'esempio degli esami un pochino aggiustato, nel senso che ho tirato via alcune cose che non ci servivano in questo momento, come la barra laterale dove avevamo, diciamo, le potenziali azioni che per ora non ci servono, ho tolto il footer eccetera, più che altro per non complicare troppo, e ho semplicemente trasformato tutto quanto in alcuni componenti. La struttura che ho dato, ve l'ho messo in questo file, component tree structure, che è fondamentalmente, c'è app, c'è sempre app per il cielo crea il template, noi non lo tocchiamo, quindi ci sarà sempre un function app in app.js, il cui io ho messo, vabbè, l'h1 per farmi il titolo, l'exam scores è un componente che ho creato io, che contiene un componente che crea una tabella fatta di componenti, di n componenti, che rappresentano ognuno una riga, e questi componenti sono fatti di due sottocomponenti, uno i dati e uno le azioni, perché alla fine ci piacerebbe mettere un bottone per cancellare l'esame, va bene, e un bottone per editarlo, l'editarlo lo faremo un po' più avanti. Ok, quindi partiamo da questa organizzazione che si riflette nei file in questa maniera, quindi in app si riflette nel fatto che io ho fatto un h1 e un exam scores, non ho messo il container di bootstrap, ma diciamo il container è solo una questione di layout, il container ho fatto due righe, ognuna di una colonna, quindi ho messo il titolo sopra la tabella, ok? di per sé tutto funzionerebbe anche senza, ma nel momento in cui avete poi un'idea dell'interfaccia potete decidere voi il layout con quel meccanismo a griglia, qui colla se non metto niente, tiene tutto il container, andiamo a vedere la cosa interessante, exams course è un componente che ho fatto io, che prende una proprietà che ho deciso io che si chiama exams, ok? a cui passo, fake exams che è un array, un array di oggetti, ok? in questo momento ho fatto l'array di oggetti, avrei potuto fare un array di valori ritornati da una funzione, exams, se avessi voluto prendere le librerie, diciamo, la libreria fatta un po' di lezioni fa, per non complicare troppo ho lasciato un oggetto, tanto alla fine abbiamo detto che in javascript non c'è il concetto di classe, no? quindi fondamentalmente anche quello che ci veniva ritornato da una function exams è un oggetto, ok? quindi non complichiamoci troppo la vita e diciamo, facciamo un array di oggetti, eh? ok, quindi questo che io scrivo così, exams uguale, arriverà come props di exams course, ok? ho messo tutti questi componenti, exams course e tutti gli altri che vi ho fatto vedere prima dentro examcomponents.js, cioè questo file quindi exams course ha delle props come parametro, tutti i componenti hanno delle props come parametro e arriva quel exams che io passo come exams uguale dentro app, quando definisco il componente e qui, in realtà qui non faccio niente, nel senso che lo ripasso all'altro componente, a exam table ok? quello sotto quindi ci sarà un altro props, punto exams, eh? punto exams lo vedo dal fatto che io di nuovo l'attributo l'ho chiamato exams, quindi questa proprietà che mi arriva dal primo componente la prendo e la semplicemente la passo all'altro componente exam table mi crea un table, va bene, fatto diciamo con il componente di bootstrap react bootstrap, ok? quindi sostanzialmente con uno stile ragionevole, eh? diciamo così mi crea leader e nel body ci mette gli exams, ecco qui finalmente vediamo questo exams che arriva dalla props utilizzato, ok? come faccio ad utilizzare un array per creare una serie di componenti, uno per ogni elemento dell'array la cosa più semplice è usare la programmazione funzionale, eh? quindi fare una map che sostanzialmente esegue una callback per ogni elemento dell'array e prende il valore di ritorno di questa callback e me lo mette in un altro array, ok? o non mi basta il for each, il for each esegue la callback e basta, non mi ritorna niente, la map esegue la callback e mi crea un array in cui il valore di ritorno della callback è messo come nuovo elemento dell'array io ho bisogno dentro queste graffe, se voglio mettere un array di componenti, di avere un array di componenti, ok? quindi map prende una callback che è questa, ok? che prende come parametro un valore che è il singolo elemento dell'array, ex, questo ex sarà l'oggetto di quei tre oggetti che abbiamo visto in app, cioè tutta questa riga è quel ex, ok? quindi questa riga è ciò che va a finire in ex e in exam component io creo un componente exam row e passo come attributo exam, nome che ho deciso io, ex, ok? ex che sarebbe l'oggetto esame che contiene codice, nome, data, voto, data ok? non dimenticatevi, perché poi rarte protesta giustamente che è necessario per tutti gli array andare a definire una chiave unica per quell'array basta che sia unica dentro quell'array in maniera che l'algoritmo di React che decide poi come aggiornare la visualizzazione eccetera possa funzionare in maniera efficiente cosa uso come chiave? se i dati hanno una loro chiave naturale faccio che usarla per esempio nella lista dei corsi c'è una chiave naturale che è il codice dell'esame non ci sono due esami che hanno lo stesso codice e se diciamo non ci fosse dovrei crearla però viene scomodo perché l'utilità di questa chiave è evitare che si ricreino componenti quindi si debba rifare la visualizzazione nel momento in cui cambia qualcosa in generale la chiave mi arriverà dai dati del database spesso, quasi sempre, anzi nel database avrò un identificativo unico associato con un record nel database se questa lista di esami, lista di vostro nome e cognome eccetera una lista di persone, una lista di film come i film del laboratorio ogni elemento nel database avrà un suo identificativo unico creato come? creato dal database quando il dato è stato inserito questa è la maniera più semplice quindi qui può tranquillamente andare quell'informazione creata da qualcuno e che è garantita a essere univoca in generale dal database siccome in questo momento non avete il database nel laboratorio dovete essere voi ad assicurarvi che ci sia questo identificativo e crearlo al bisogno quindi un po' macchinoso perché in questo momento non abbiamo il DB poi quando avremo il DB la cosa si va a posto da sola ok quindi exam row prende un parametro quindi un attributo, anzi exam che abbiamo deciso noi si chiama exam e che ci ritroveremo nelle props di nuovo il chino lo ritroviamo nelle props perché abbiamo detto l'altra volta chi è privato di React se lo gestisce per conto suo ma per noi non è un problema tanto in exam c'è tutto ok? quindi in quello che passiamo c'è tutto exam row è questo sotto che crea la riga della tabella tr con dentro due componenti exam data e exam actions ok? in exam data di nuovo passiamo exam props exam l'abbiamo deciso noi questo exam si chiama exam perché io ho qui scritto exam ok? ovviamente essere coerenti ci aiuta un pochettino se una volta lo chiamo ex l'altro exam l'altro exam non si capisce più niente se siamo un po' coerenti diciamo minimizziamo la possibilità di errori però il nome dell'attributo lo decido io exam actions non prende alcun attributo ok? per ora nel senso che per ora non prende alcun attributo perché perché in realtà è solo un'icona e il bottone non funziona adesso vediamo di farlo funzionare ok? exam data e qui sotto prende exams exam anzi che sarà una props estrae tre campi di quelli che ci interessano name, score, date in realtà c'era anche il code ma abbiamo deciso di non visualizzarlo vabbè pazienza se volete lo aggiungo ma non fa niente e semplicemente crea i td della tabella con le tre informazioni ok? exam action mette un semplice bottone in un td e non ci aggancia niente ok? è un bottone che infatti non funziona no? io ho provato qui non funziona ok quindi questa è la struttura mi raccomando spero che sia chiara a tutti no? tabella un componente che mi fa i primi tre elementi e un altro componente che mi fa l'ultimo perché lo tengo separato perché un bottone per comodità cioè è chiaro che si può mettere anche tutto quanto in un unico componente avrei potuto chiuderlo qui in exam te anzi in exam row e mette tutto in exam row sta un po' a voi decidere cosa fare come quando programmate faccio tre funzioni o metto tutto in un'unica funzione bisogna un attimo capire magari iniziate a mettere tutto in un'unica funzione poi quando cominciate a vedere che diventa troppo lunga troppo grossa e separate ok? mi raccomando se avete dubbi, domande e soprattutto altre idee di un meccanismo alternativo ditemi perché così le valutiamo insieme anzi due cose ancora vedete qui il react fragment no? vabbè adesso scrivere il commento è complicato va bene dai react fragment possiamo scriverci vi ricordate vedete questo è proprio il classico caso in cui io devo mettere insieme tre elementi sotto un'unica radice ma non posso mettere un div perché in mezzo alle tabelle non posso mettere i div o gli spane e così via ok? quindi questo è proprio il classico caso in cui mi viene comodo questo react fragment cioè il minore e maggiore perché react pretende che sia sempre tutto messo in un unico un'unica radice l'element tree abbia un'unica radice d'altronde se no non è un albero seconda cosa date qui chiamo punto format perché semplicemente per chi sono io che ho deciso che in app come valore del campo date dell'oggetto tenevo riferimento ad un oggetto creato da dayjs ok? questa è una mia scelta siete voi che dovete decidere come fa la struttura dati avrei potuto tenere la stringa e convertirla in data al bisogno sempre con il dayjs ok? è una mia scelta vedete un attimo voi in questo momento ho fatto tutto con un oggetto dayjs e quindi nel momento in cui lo voglio visualizzare per visualizzarlo come voglio uso il metodo dayjs perché so che date è un riferimento ad un oggetto dayjs e quindi qui ci faccio format e così viene fuori quello che desidero io ok? quindi l'importante è solo essere coscienti di come abbiamo tenuto le informazioni nella memoria in questo momento non è uno stato in questo momento è semplicemente un array in javascript ok? quindi non diciamo non ho questo array e l'ho passato come props è come se avessi delle costanti ok? benissimo trasformiamolo trasformiamo questo esempio e facciamo in modo che diciamo così per intenderci i bottoni funzionino cosa vuol dire che i bottoni funzionino? vuol dire che in quella lista dovrò far sparire degli elementi ma ha senso ragionare in termini di lista cioè quella lista allora prima di tutto non dovrebbe neanche esistere nel senso che questa informazione non dovrebbe essere una costante qui in in app.js no? è solo qui per comodità ma dovrebbe essere arrivata dal server dove avrei messo questa informazione? devo metterla in un posto che mi consenta di andarla a modificare e che venga ricordata dal componente perché poi ci agisco sopra ci faccio delle modifiche e devo diciamo riflettere nell'interfaccia utente queste modifiche ok? quindi questo è proprio il classico esempio di un qualcosa da mettere in uno stato concordate? c'è qualcuno che aveva un'idea diversa l'avrebbe messa come variabile da qualche altra parte? dite eh non non c'è problema cioè ragioniamoci sopra quindi noi a questo punto dobbiamo decidere dove mettere questo stato ok? dove andiamo a mettere questo stato? secondo voi dove lo mettereste questo stato? guardiamo la gerarchia dei componenti il posto più semplice quando uno non sa cosa fare lo mette in app così è visibile da tutti è risolto il problema però diciamo questo approccio non è granché perché perché poi se devo andarlo a modificare devo passare le funzioni tramite props da app che è l'unica che può andare a modificare lo stato fino ai componenti dove mi servono per cui ok? portare lo stato in alto nella gerarchia dei componenti perché deve essere a disposizione di tutti i componenti però non troppo in alto perché poi devo portarmi dietro come le props tutte le funzioni per andare a gestire ok? quindi qual è il posto più naturale dove mettereste la lista degli esami in table no? quindi il vostro collega ci suggerisce la table perché? perché nella table ne ho bisogno perché è lì che ho fatto la map per creare i componenti ok? se non ce l'ho in table diventa difficile no? non posso metterlo nel singolo componente perché nel singolo componente non ne faccio niente di avere tutta l'informazione di tutti gli esami nella singola riga mi serve l'informazione della singola esame ok? portarlo più su si poteva ma c'è il problema che vi dicevo prima poi diciamo c'è un passo in più o due o tre per andare a lavorare su questo stato quindi andiamo in exam table ok? andiamo a creare uno stato quindi mi raccomando fatelo sempre per prima cosa nella funzione capiremo più avanti appunto perché come lo creiamo abbiamo visto gli esempi nelle slide non li vado a riprendere se no non finiamo più però tanto insomma rivedendo la lezione eventualmente li vedete consta aperta quadra col destructuring exams set exams non invento niente use state adesso pensiamo allo stato allo stato iniziale ecco solo una cosa ok use state per essere utilizzato va va importato perché se io faccio salva vedrete cosa viene fuori se non si incarta use state is not fine ma questi sono banalità non import use state state from react ok quindi risalvo ok almeno questa volta non mi dice più che non esiste è solo in grigetto perché non è ancora utilizzato ma va bene eh exams non è in grigetto perché in realtà ah no eh boh no sono io che non ci vedo è in grigetto ok non è utilizzato ok benissimo cosa ci mettiamo come inizializzazione dello use state se scriviamo così javascript ha la sua interpretazione è undefined eh è una variabile undefined io non ho passato niente quello cerca un parametro undefined e finisce undefined ok eh però non è cambiato nulla è nell'applicazione adesso vabbè c'era questo era credo l'import che non andava no però nell'applicazione non è cambiato niente se questo stato non lo uso per ora non è cambiato niente perché perché i dati da dove mi arrivano i dati mi sono arrivati da props exams ok quindi mettiamo props exams ok è vero che prima ho detto di non farlo però siamo in una condizione un po' particolare eh nel senso che noi abbiamo i dati scritti come un array in javascript eh se no potremmo tranquillamente mettere un array vuoto no eh però poi chi ce lo riempie eh se fossimo che abbiamo il server facciamo come faremo più avanti nel corso la user effect prima o poi di server ce li da e ce lo riempie ok non ce li abbiamo in questo momento dobbiamo accontentarci e questo accontentarci vuol dire che lo prendiamo da props exam eh in alternativa avremmo potuto spostare l'array fisso qui eh ma insomma visto che abbiamo questo passaggio già ben fatto di dell'array degli exams va bene props exams vero? si props exams ok a questo punto togliamo le props da qua perché nel componente andremo ad utilizzare exams che è lo stato perché altrimenti continueremo a prendere la props cioè l'array definito dentro app fisso ok ok quindi salviamo la set exams non è ancora utilizzata ma exams questa volta utilizzata è quella che viene dallo stato ok proviamo sempre che funzioni tutto in realtà qui ricarica automaticamente ma vabbè andate una ricaricata si sa mai ovviamente non è cambiato niente ancora perché i bottoni non funzionano ancora potete però esplorare forse vale la pena di farlo almeno una volta eh col debugger di react che cosa sta succedendo nell'applicazione qui purtroppo non si può ingrandire io vado a prendere exam table quindi ho cliccato su exam table ve lo leggo eh ux c'è uno state che ha un array ok quindi mi è spuntato almeno lo state eh ok va bene per ora però non ci serve quindi lo lasciamo lì ok a questo punto dobbiamo in qualche maniera gestire lo stato cioè fare in modo che quando prema sul bottone di cancellazione sparisca un elemento da quell'array ok allora eh dov'è il bottone il bottone in exam actions no nella gerarchia è a questo punto io lo stato ce l'ho in exam table e il bottone ce l'ho in exam actions quindi ho di mezzo il componente exam row e poi c'è exam actions io se voglio agire in qualche maniera su sullo stato che è la lista degli esami devo chiamare la set exams in exam table ok per farlo però io vorrei farlo nel momento in cui viene premuto il bottone che sta in exam actions quindi faccio una funzione in exam table che avrà accesso al set exams che viene passata come props a exam row che a sua volta me la passerà a exam actions ok in maniera che io posso scrivere un event handler quindi qualche cosa da eseguire sul click in exam actions che abbia un effetto in exam table che chiami il set exam e che quindi poi vada a togliere questo esame dalla lista quindi da quell'array vado a modificarlo ok quindi proviamo a farlo quindi dobbiamo aver chiaro che cosa vogliamo fare che è quello che vi ho descritto exam table in exam table noi ci facciamo una function se non vi piace function possiamo fare cost uguale aperta tonda freccia insomma fa lo stesso però una function annidata niente di particolare delete exam ok adesso pensiamo cosa prende come parametro e poi qui dentro lasciatemelo commentare un attimo ci sarà la set exams che farà qualcosa no quindi toglierà remove exam ok questa questo è l'unico posto dove possiamo chiamare la set exam perché diciamo è a disposizione qui abbiamo detto che lo stato è accessibile da dentro il componente la delete exam la passiamo come proprietà e qui l'unico posto dove lo possiamo passare è in exam row ok quindi diamo dei nomi significativi per evitare di fare dei pasticci che poi non capiamo più niente quindi delete exam mi raccomando di capire bene delete exam il primo è il nome che abbiamo scelto come attributo che diventerà la props del componente exam row il secondo è il riferimento della funzione delete exam che abbiamo scritto in questo componente ok andiamo in exam row qui riceveremo un props delete exam che passiamo di nuovo come delete exam delete ops qui vabbè viso a studio inventa delete exam e qui props props delete exam ok perché qui è props punto e là no perché là cioè qui in in delete exam la funzione è definita quindi mi basta il nome qui in exam row è pros punto perché l'ho passata come attributo del componente ok tutto ciò che è attributo diventa una props finalmente arriviamo al nostro exam actions che si troverà come props la delete exam allora vado a capo per fare un po' di posto poi se ci sta lo riportiamo anche sopra eh e qui scrivo l'event handler ok quindi non far pasticcio do un'occhiata ma onclick ok onclick cosa faccio devo avere una callback che vada a dirmi di cancellare un certo esame ok allora diciamo cominciamo a scrivere una callback arrow function è che è la cosa più semplice devo chiamare la mia funzione come a disposizione la mia funzione in exam actions l'ho visto prima e gliel'ho passata e quindi sarà props delete exam ok mi manca ancora un pezzettino nel senso che devo capire qual è l'esame da cancellare come faccio a saperlo in realtà qui non lo so perché mi manca un pezzo no exam actions io gli ho passato solo a delete exam ok quindi devo in qualche maniera far sapere a exam actions che quella lì è l'azione su un certo specifico esame ok quindi per esempio posso passargli un codice il codice dell'esame eh ho messo cod cod uguale exams no props scusate props exam punto code ok come io qui ho a disposizione props exam posso prendere props exam exam code e passarlo così la così la delete exam mi farà delete exam props cod occhio solo che qui non avevo messo le props perché non mi servivano quindi adesso le devo aggiungere ok bene salviamo vediamo un po' non ci sono problemi particolari se non ha sette exam che non è ancora sistemato sì c'è una domanda sì si potrebbe anche fare come dice il vostro collega quindi il vostro collega dice di passare una callback che ha già l'id exam dentro quindi avrei potuto scrivere aperta chiusa tonda freccia props delete exam aperta tonda props exam code ok quindi questa è un'alternativa quindi la callback è già pronta eh io passo la callback e ha già il suo parametro no? eh ok benissimo e grazie per l'osservazione così vediamo anche qualche variante eh eh quindi adesso risalgo indietro no? io ho props delete exam metto props code come parametro che mi risalirà fino ad arrivare la mia delete exam e adesso so cosa scrive come parametro perché io gli passo il code eh che è una stringa ok e adesso mi aggiusto il set exam cosa mettiamo dentro set exams io devo fare in modo che set exams mi imposti nello stato il nuovo array devo in qualche maniera devo in qualche maniera trovare il modo di avere un nuovo stato che sia un array che non ha più l'esame che non voglio eh vi dicevo prima vi dicevo prima ho bisogno che eh sia un nuovo array perché deve essere un nuovo riferimento per react questo lo vediamo poi bene nelle slide della seconda parte della mattina perché così react si accorge che lo stato è cambiato perché react non sa a priori che cosa c'è dentro lo stato eccetera se vede un numero un boolean o una stringa può fare il confronto diretto se vede un riferimento guarda se il riferimento è uguale se il riferimento è uguale dice ma non sarà cambiato nulla quindi io per far capire che è cambiato lo stato devo creare un nuovo array il contenuto dell'array può anche essere quello degli oggetti vecchi tranne quello che non mi serve più va bene ma il riferimento dell'array deve essere nuovo quindi non posso semplicemente fare un exams adesso non so neanche più quale sia la funzione un delitto cosa c'è remove dell'elemento e lasciare lo stesso array perché questo non funziona ok? però noi siamo bravi con la programmazione funzionale voi siete bravi con la programmazione funzionale e quindi questo non è assolutamente un problema tra l'altro abbiamo visto la programmazione funzionale apposta perché ci ritorna sempre dei nuovi array che è proprio la cosa che ci viene comodo con gli stati di react quindi noi prendiamo il vecchio exams come facciamo a tirar via tutto tranne no scusate tira via solo l'esame tranne tutto il resto vi ricordate che c'è una filter ok? ok non ci suggerisce ma va bene lo stesso quindi la filter degli array ritorno nuovo array numero uno che ci serve come meccanismo numero due prendo una callback che se ritorna true ok? ci lascia l'elemento nell'array altrimenti se ritorna false non ce lo mette ok? quindi dobbiamo semplicemente fare una callback quindi solito meccanismo parametro freccia e diamo come valore diciamo se quello che stiamo esaminando è il parametro della callback quindi l'elemento che stiamo esaminando ci serve il codice no? punto code diverso da code questo code è il parametro ok? quindi true e quindi ce lo lascia quando sarà uguale diventa scusate no mi sono incartato se il codice è diverso è true e ce lo lascia se il codice è uguale diventa false e non ce lo lascia ok? quindi ci elimina l'elemento in cui e.code diventa uguale al parametro che abbiamo passato ok? ora che sia a posto le parentesi se volete ci mettete il punto e via ma insomma ok? salviamo ci sono stati errori no meno male abbiamo fatto tutto giusto qui dovrebbe essersi già ricaricato proviamo ok? funziona oh meno male e come fate a tornare alla condizione iniziale al momento non abbiamo un bottone aggiungi no? e quindi l'unica cosa che possiamo fare è ricarica ricarichiamo la pagina e ripartite dall'inizio eh ok? quindi in questo momento non abbiamo niente di più sofisticato poi piano piano costruiremo anche il form per aggiungere ma i form sono una cosa un po' più lunga e li vediamo nella seconda parte della mattina non credo che li finiremo ma abbiamo a disposizione poi la prossima settimana non il martedì che è ancora vacanza ma quello dopo eh per finire il discorso ma i form sono una cosa importante quindi va giusto bene che li vediamo cominciamo a vederli e poi li riprendiamo dopo ok se ci sono dei dubbi vi rispondo se no facciamo pausa io sono a disposizione nella pausa come sempre e e poi riprendiamo dopo e vediamo un pezzo dei forme e continuiamo questo esercizio ok